Bella a tutti ragazzi, sono sempre io Pesco, scusatemi se sono tornato dopo un po' con un video ma ho avuto da fare Ma oggi sono tornato di nuovo su FIFA 15 con un nuovo pacchetto oro Vediamolo, apritemo subito insieme, apriamolo così, vediamo un po' se abbiamo culo o no Wander va, mmm, allora, già, già non è male, già non è male Eh, questo Mei, wow va bene, Kuzmanovic va bene, Defur, poi abbiamo un allenatore, vabbè, vari contratti e delle divise Ok ragazzi, questo pacchetto alla fine non è stato tanto male Ehm, insomma, può aiutarmi nella mia rosa Solo che ho tutti i francesi e non so quanto mi possano essere utili Spero molto Ok ragazzi, spero vi sia piaciuto il video, mi raccomando Scrivetemi nei commenti se anche voi avete aperto qualche pacchetto Se avete avuto qualche botta di culo a trovare qualche giocatore bestiale Mi raccomando, non esitate a iscrivermi, mettete tutti un bel mi piace, iscrivetevi al canale Ragazzi, ci vediamo con il prossimo video Grazie a tutti